Sono rimatte solo poche ore per quanto riguarda il nostro Black Friday e la possibilità di andare a acquistare corsi di formazione di trading on a un prezzo esplicitamente più basso, poche ore, oggi è l'ultimo giorno ragazzi, chiudiamo tutto quello che è la parte relativa appunto a questa questione della formazione, siete già stati tantissimi ma io ho un regalo anche per voi perché mi è piaciuto molto l'atteggiamento questa volta di tantissimi utenti che si sono registrati che hanno scritto in assistenza, hanno fatto tante domande, questo è segno anche della maturazione di un po' di quello che è la struttura dei follower, del canale e tutto il resto ma anche in generale probabilmente in Italia eccetera, domande che erano pertinenti e mi è piaciuto tanto, allora a dicembre quando tutti i giochi sono fatti e fra un mesetto che un po' avete avuto tutta la possibilità di andare a ragionare su quelli che sono i corsi quindi andiamo a fare un webinar a AMA quindi Ask Me Anything dove andiamo a vederci insieme con tutti quelli che hanno acquistato il corso di formazione in questa tornata del Black Friday e in quel webinar andiamo a rispondere alle vostre domande quindi un webinar formativo unico dedicato a chi ha acquistato il corso e chi si sta formando per pormi tutte quelle che sono le mie domande eccetera, è vero lo potete fare in Academy ma dal vivo è sempre più figo ragazzi quindi possiamo andare a spiegare tante cose, questa è un'aggiunta la volevo fare oggi perché mi è piaciuto questo atteggiamento ultimi giorni ragazzi quindi non vi fate scappare questa occasione perché alcune questioni relative ai mercati già stanno iniziando a muoversi per esempio nel video di oggi andiamo a vedere Bitcoin, che cosa sta disegnando e qual è la situazione in questa settimana che potrebbe essere la settimana in cui andiamo a toccare un minimo molto importante dal quale puoi ripartire nel video di ieri, video special domenicale bellissimo devo dire la verità, se non l'avete visto ragazzi sopra la mia testa andate a vedere quel video perché è veramente spettacolare e in quel video vi ho fatto vedere un'ipotesi della divergenza dell'RSI e questa ipotesi che invece andiamo a vedere oggi su Bitcoin si sposa alle grande anche con quella questione lì ben ciao a tutti bentornati in questo nuovo video, video del lunedì, Bitcoin Monday e andiamo a vedere news, analisi, previsioni e quello che ci capiterà questa settimana dico meno eh, perché poi l'orecchio adesso parla di vetro eh, va bene ragazzi allora detto questo ovviamente mi ero dimenticato vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda i Black Friday se lo volete utilizzare non perdete questa super occasione allora vi eh iniziamo dal classico recap di quelle che sono tutti gli aggiornamenti relativi alla ehm ai dati economici allora dati economici eh che però ragazzi a me piace solo la giornata di giovedì dove c'è l'IPC eh del eh Europa che è previsto ancora in ribasso quindi ci siamo quasi il 2% del target 2.8 nella eh anno 2023 eh non male non male devo dire la verità la reazione in Europa è stata più eh consistente rispetto a quella degli Stati Uniti e secondo me già nel 2024 potremmo in effetti scendere al di sotto insomma del target dell'inflazione quindi riportarla al 2% ovviamente i tassi eh resteranno ancora alti fino a quando la questione sarà stabilizzata poi c'è il PIL degli Stati Uniti atteso addirittura in forte app ma è quello del trimestre quindi terzo trimestre PIL in forte app eh e insomma qui eh c'è poco da dire Stati Uniti in forte crescita ancora e rimangono abbastanza stabili altri dati al momento io non li guarderei ragazzi perché sono sostanzialmente sempre uguali il disoccupazione nell'ISM non hanno indicazioni fondamentali quindi da un punto di vista di dati ehm eh macro non vedo grandi grandi oscillazioni eh in questo momento vedo più invece oscillazioni legate a quelle che sono i naturali andamenti dei mercati in più c'è la questione Binance per quanto riguarda le criptovalute Bitcoin di cui ne parliamo in un video dedicato ma io personalmente non ho grandi dubbi che in sostanza non è cambiato assolutamente niente perché il cambio di un CEO non cambia la natura del mercato ragazzi perché eh fa parte dei giochi no quando ha andato via Elon Musk da eh le sue varie aziende oppure semplicemente Steve Jobs o o o anche ehm attualmente il CEO di Amazon no eccetera eh cioè non è che cambiano le aziende sottostanti probabilmente vanno a modificarsi tante altre cose eccetera più che altro è un risvolto che dovremmo riflettere su quello che è stato l'accaduto il perché è accaduto quella cosa e il significato dell'intromissione eh su su quella accaduto questo sicuramente sì però lo andremo a fare con un video dedicato io oggi voglio parlare invece di quella che è la situazione legata a Bitcoin per farvi capire anche una mh questione che potrebbe essere addirittura definita come un'opportunità di questo fase un'opportunità interessante io non prendo in questo video il Bitcoin eh spot da andare ad analizzare bensì il future CME di Bitcoin che ancora una volta ha segnato i nuovi record per quanto riguarda la questione della eh open interest eh con volumi più alti appunto di Binance quindi il CME eh è diventato eh voluminoso diciamo così bel eh bel voluminoso allora questo è il grafico che vi ho mostrato anche nella eh l'ultimo video adesso non ricordo quando ha una struttura ciclica a tre onde probabilmente disegnata in questo modo che deve chiudersi in questa fase qui secondo me eh questo dato è molto importante perché Bitcoin significa che potrebbe andare a creare un minimino all'interno di questa settimana probabilmente tra domani e giovedì quindi tra insomma un giorno due e in questa zona di minimino trading range per questa struttura potrebbe segnare la chiusura di un ciclo trimestrale da circa 80 giorni disegnato in questo frangente ed essere eh insomma da lì potrebbe in effetti cercare la lo sprint poi per una nuova fase di app attenzione che io qui sto facendo dei disegni quindi non sto andando a indicare dei prezzi però sostanzialmente anche il ribasso di questa settimana eh che è iniziata in rosso mh potrebbe essere legato a questa questione la chiusura del ciclo trimestrale se questa visione ciclica è corretta è importantissima perché attraverso la chiusura del ciclo trimestrale noi dovremmo andare ad assumere nuovamente la posizione long io lo so che come diciamo sempre se nuovamente long per il tentativo della partenza del prossimo trimestrale e se questa view è corretta il prossimo trimestrale va a fare i massimi dell'anno 2023 eh e in questo caso noi dovremmo essere su quella opportunità lo so che molti di voi mi hanno anche scritto nei commenti ah questa è un'area di short io sto iniziando a shortare io non lo farò mai perché intanto lo short contro un trend importante come questo non mi piace quindi questa è la mia natura secondariamente non lo faccio su bitcoin per questioni etico religiose diciamo così ehm non mi piace però poi in questo contesto anche di partenza della nuova Burran il primo annuale dell'albing insomma andare short ma perché cioè perdere tempo più che altro quello che sto facendo è concentrarmi a risalire eh su un'operazione di breve periodo proprio nella settimana attuale che sarà una settimana che dovrebbe dichiararci un minimo eh sul quale andare a salire adesso vediamo pure bitcoin spot che qui ovviamente il future è un po' in latenza quindi eh già bitcoin spot ragazzi è più basso quindi sta eh intorno ai il 36.900 oggi più o meno di eh oscillazione e insomma io questa questione qui eh la sto mettendo in evidenza già da un po' non abbiamo idea se il ciclo trimestrale possa essere stato chiuso anche in questo minimo era un po' un minimo poco pronunciato eh potremmo andare avanti tranquillamente e arrivare appunto intorno a giovedì magari con queste eh magari tre candele rosse una due e magari domani così poi la Shadona e via con i giochi allora se fa un ribasso del genere per me siamo in chiusura del ciclo trimestrale a quel punto nel mio tentativo per la settimana in atto sarà quello di eh cercare una posizione long attraverso i nostri sistemi in academy eh ho già pubblicato tutto questa mattina abbiamo i livelli di dip in academy abbiamo tutto quello che sono le strategie di ingresso già definito bisogna fare tutto prima come spiego nei corsi ragazzi bisogna programmare tutto prima ed è fondamentale questa cosa in questi momenti in questi contesti non è fortuna non è una questione di fortuna se per esempio noi eh con l'ultima operazione di lungo periodo siamo saliti sul carro a 29.000 e qualcosa 28.000 non mi ricordo neanche se devo dire la verità intorno a quella zona e perché ragazzi semplicemente ci sono strategie dietro in essere da più di un anno e mezzo due quelle strategie sono sempre uguali non vengono modificate quindi dovete programmare eh per salire sul carro e gestire queste posizioni tutto quello che ne viene poi è frutto del vostro lavoro non è frutto di fortuna o roba del genere non è o ci ho beccato non ci ho beccato è strategia è la strategia è ripeticabile non ve lo dimenticate quindi eh a questo serve la formazione dello studio serve a crearvi delle strategie ripeticabili che valgono in mille situazioni differenti perché i mercati cambiano cambieranno anche il futuro non sono mai ripetitivi nella stessa maniera e quindi la strategia ripetitiva ai mercati no e voi con la strategia dovete tenere no questa oscillazione del mercato all'interno di queste vari poco vabbè chi era quello con la palla di fuoco non mi ricordo c'era uno che faceva queste cose ma niente sarà vabbè allora ragazzi giovedì mercoledì giovedì questa zona in che area di pricing potrebbe andare a definirsi la chiusura se questa view dovesse essere confermata perché se da qui riparte una spirale rialzista allora vuol dire che è stato tutto chiuso qui a quel punto si sale in breakout non più in dip chi si è visto si è visto non c'è possibilità di fare il buy the dip se il mercato non vi da il buy the dip ma in questa zona in questa fase qui potrebbe essere interessante attenzione che io non credo in un ribasso importante se qualora dovesse avvenire un ribasso importante di bitcoin in questa settimana e dovremmo prendere atto e cambiare un po di cose perché secondo me sarebbe troppo ghiotto dare un segnale di ingresso in quel punto è troppo basso e quindi significa che qualcosa sta scricchiolando non mi piace e quindi non mi ci metto sopra ecco questo è il discorso allora invece in zona di pricing per me la struttura più interessante dovrebbe essere esattamente questa qui questa che va in pratica da 36 e più o meno 36 e 5 intorno a 36 facciamo una cosa vi disegno come sempre il quadratone dove sei quadratone eccolo qui in questa zona qui da 36 circa 5 36 e 4 a la zona di 36 circa questa area qua questa fascia questo quadratone potrebbe essere il punto la zona di un buy the dip che è di natura di brevissimo periodo potrebbe essere interessante perché potrebbe dare l'ulteriore slancio al mercato di quello che effettivamente a noi stiamo cercando quindi in quella zona inizierò a monitorare strategie di ingresso per questa settimana se non inverte da quella zona e continua a scendere non compro perché io compro ad inversione quindi non mi venite a dire ah è sceso lì poi è salito perché dovete attendere comunque una strategia di ingresso un trigger di ingresso che deve essere formato con un'inversione di trend probabilmente a time frame inferiori queste cose ragazzi sono tutte cose da formazione quindi non fate questa operazione se non avete le formazioni adeguate perché vi bruciate e soprattutto non le riuscite a fare poi pensate che non funzionano in realtà non è così non avete la formazione per comprendere come si fanno e quindi non è giusto dire che non funzionano però ragionateci perché è bello anche studiare no anche in corso dopo non le fate con il denaro vero però studiatela fate la prova paper trading fate la prova generale perché così andate a formarvi anche con il learning by doing che è fondamentale va bene detto questo è quello che mi aspetto questa settimana vediamo se riusciamo a beccare questo movimento e in questo caso sarebbe proficuo secondo me non sono convinto che la settimana in questione poi resti verde anche per una questione legata al fatto che abbiamo disegnato tante verdi però andiamole a vedere qual è invece la cripto della settimana ovviamente la cripto della settimana non può essere che va in anz coin ragazzi perché mi sembra giusto andare a vedere quello che è successo dopo la questione di di banan's coin e poi me l'avete anche chiesta in alcuni in alcuni commenti se non che se non che io ho fatto una tweet l'altro giorno su quale cripto andare a controllare per la weekly e ha vinto i gold ragazzi però questa settimana non la vediamo perché c'è la questione banan's ma la prossima sarà dedicata a e gold ragazzi e insomma farò anche dei tweet relativamente a questa cosa così magari quando vi interessa una cripto voluta la vediamo insieme quindi seguitemi su twitter ragazzi vi lascio il link in descrizione ovviamente per gratuito il l'account di twitter dove pubblico un po di idee delle cose relative anche a delle delle notizie ma anche relative a delle analisi anche se negli ultimi dieci giorni non l'ho fatte perché ero molto concentrato a fare il trader davvero lo sape così dice quindi allora cosa è successo dal minimi del 9 ottobre secondo me è iniziato un nuovo ciclo annuale su binance dopo aver strutturato un annuale che è andato dalla zona di giugno in questo minimo qui a crearsi con una forma di natura ternaria questa struttura un annuale in bara di congestione non ribassista che dovrebbe essersi chiuso ora che cosa sta costruendo qui binance probabilmente il primo ciclo trimestrale di questo nuovo annuale ma attenzione perché siamo anche su un nuovo annuale e potrebbe tranquillamente fare un link di buyer cioè potrebbe andare a creare un'anomalia tecnica dovuta proprio a questa situazione in cui in sostanza si va oggettivamente a ritestare i minimi precedenti nel tentativo di fare stop hunting eccetera questa ipotesi in un contesto anche particolarmente legato alla vicissitudine di binance guardate anche il candelone rosso che è arrivato dopo la questione di cz meno 10 qui tra le altre cose c'è stato un doppio minimo in questa zona non si è ancora concluso però ci dice tante tante cose allora qui siamo a 43 giorni quindi metà più o meno del ciclo trimestrale è probabile che questa zona sia la metà del ciclo trimestrale che dovrebbe andare a chiudersi verso fine dicembre il 20 dicembre quindi fra un mesetto ma può essere anche che questo massimo in questa zona sia stato il massimo dell'intero ciclo trimestrale perché solitamente quando fa una cosa del genere poi un ribasso importante difficilmente va a ritestare un massimo centrale probabilmente farà una cosa del genere e poi va a chiudere questa struttura quindi in pratica binance coin se non succedono delle cose che adesso vi dico del superamento di alcuni livelli è in trading range laterale in questa fase ma è anche il primo annuale quindi il riposizionamento teoricamente anche la chiusura di questo annuale ma anche su questi livelli di minimo per il medio lungo periodo non sarebbe del tutto sbagliato sapete che io non vado in hold delle criptovalute per quanto riguarda la questione di lungo periodo ma le uso come trading e quindi le uso a mo' di speculazione perciò farò la stessa cosa anche su binance coin che vi dico francamente non è nel mio portafoglio di investimento quest'anno bensì ho comunque dei bnb dovuti alla questione della carta non li ho mai venduti e li continuo a tenere li ho da una vita ragazzi quindi ne ho anche tantissimi però non sono tanti per il mio patrimonio insomma eccetera e però li continuo a tenere e perché non so che cosa faranno magari se rifanno qualche servizio con la carta eccetera poi il grafico attuale non mi dà un'informazione negativa in toto perché l'inizio di un nuovo annuale secondo me è sempre una scelta positiva ora bnb è anche andata a sbattere contro questo livello di massimo che è stato breccato però poi non è riuscita vedete a uscire quindi da un punto di vista di analisi tecnica non ciclica questa diventa una zona interessante anche di resistenza bensì anche una questione che sopra i 257 260 in pratica bnb inverte il trend quindi teoricamente anche qui diventa un segnale long attenzione l'unica cosa negativa sarebbe una discesa al di sotto dei 200 una discesa importante al di sotto di 200 sarebbe pericolosissima perché potrebbe indicare due cose soprattutto se fatta non nell'immediato ma tra un po' di tempo potrebbe indicare che l'annuale diventa totalmente ribassista e quindi qui c'è un discorso poi da fare probabilmente esce fuori qualcosa o bnb non riesce magari a recuperare la sua competitività il rilancio aziendale dopo cz non va bene insomma cose che poi dovremmo andare a vedere ma al momento io non la vedo così quello che vedo in questo contesto è la chiusura di un ciclo trimestrale in atto con probabilmente sali e scendi e poi un minimo che potrebbe essere vicino a questa zona qui questo minimo dovrebbe avvenire entro dicembre cioè in pratica dopo che bitcoin va a segnare teoricamente i massimi dell'anno 2023 sempre che non l'abbia già fatti perché ormai essendo agli sgoccioli cioè mancherebbero una quindicina ventina di giorni ragazzi e nell'analisi ciclica questo significa che può esserci di deviazione standard perciò potrebbe essere anche che i massimi del 2023 li abbiamo già segnati però io un ultimo tentativo anche su bitcoin come vi dicevo lo farò perché soprattutto le ultime parti di questi pump sono ghiotte a livello di percentuali perché perché tutti pensano short in questo momento e quindi se gli vanno in stop tutte quelle quei livelli per esempio sopra bitcoin sopra i 38.000 e 2 38.500 e poi partono quei candeloni perché ci sono tutti gli short che vengono liquidati e fanno festa però poi ragazzi quindi sinceramente rally di natale per me è ancora possibile su bitcoin e quello lo andremo a vedere quindi io come vi dicevo per me rally di natale sì però la questione binance è in attesa ora il livello che deve superare per cambiare radicalmente questa view di attesa è 246 quindi sopra 246 dollari cambia un po' e ha magari la forza di ritestare 260 secondo me non ci arriva 246 250 per questa tornata sarà in barra di congestione e chiude qui qui invece da fine gennaio in poi sarà ghiottissimo andare a ragionare su questa cripto per vedere un po' se qualche baiettino può essere fatto va bene ragazzi siamo alla fine allora vi ricordo pochissime ore non vi fate scappare questa occasione black friday trading on con tutti i miei corsi e soprattutto l'academy con dentro un mare un fiume di roba e anche i nostri i nostri vari bot eccetera tutto quello che stiamo facendo il webinar come vi ho promesso a fine dicembre lo facciamo per tutti gli iscritti di questa tornata così facciamo un'ama e soprattutto vi posso seguire un po' meglio su quello che sono i vostri dubbi e le vostre perplessità e per oggi è tutto vi lascio in descrizione ovviamente noi ci rivediamo nel prossimo video buona inizio settimana a tutti ciao